Bene, buon pomeriggio a tutti. Diamo il via a questa nuova lezione del nostro corso di perfezionamento in aerobietica. Spero che mi riusciate a sentire tutti. Grazie a coloro che stanno arrivando qui in presenza, a coloro che si stanno connettendo e vedranno la registrazione sia attraverso questa piattaforma sia attraverso il canale YouTube. Innanzitutto buon anno. Abbiamo iniziato un nuovo anno, 2024, un anno intenso, pieno di attività e di sorprese anche per i nostri studenti del corso di perfezionamento in aerobietica e anche per i nostri ricercatori e coloro che ci seguono. Siamo qui collegati dall'Ateneo Pontificio Regina Postoloro Università Europea di Roma e diamo in via a questa sesta ormai lezione del nostro programma di perfezionamento in aerobietica. Condivido lo schermo Benissimo, eccoci al nuovo percorso che quest'anno stiamo dedicando agli approfondimenti sulla tematica della neurobietica. Farò una breve ricapitolazione. Abbiamo voluto, come capirete meglio fra poco, abbiamo voluto sottotitolare questo percorso di perfezionamento, rimappando il territorio, proprio cogliendo il titolo di un famoso convegno del 13-14 maggio del 2002 a San Francisco in California, in cui da quel momento in poi il neologismo neuroetica è stato maggiormente diffuso. Infatti quegli atti che vedremo, quegli atti del convegno di San Francisco, vennero pubblicati in un volume titolato proprio Neuroethics, Mapping the Field, cioè la neuroetica utilizzando questa analogia cartografica, geografica, come se fosse un territorio, un continente inesplorato o irraggiungibile o appena scoperto. Nel 2002, quindi vent'anni fa, oltre vent'anni fa, si cercava di mappare questo terreno, che sappiamo, e adesso lo vedremo meglio e lo approfondiremo meglio oggi, il neologismo però nasceva molte decadi prima, nel 1973, come vedremo ad opera della neuropsichiatra Annalise Alma Pontius. Quello che noi abbiamo, come vedremo oggi, è una brevissima ricapitolazione proprio telegrafica, mentre ci concentreremo la prima parte sulla narrativa storica della stessa neuroetica, della neuroetica stessa, e questo ci servirà moltissimo per dare un panorama diacronico, cioè nel tempo noi fisseremo delle date storiche, dei pilastri storici importanti che poi andremo a vedere. E, sperando di avere il tempo di iniziare, forse spero anche di concluderlo, oppure lo concluderemo a febbraio, parleremo del modello medico-clinico. Vedete che io ho inserito uno, punto numero uno, perché? Perché noi sostanzialmente vedremo quattro modelli, una modellizzazione quatripartita della neuroetica, vedendo, appunto, cominciando a capire che cos'è, quindi, la natura di questa disciplina o di questa riflessione interdisciplinare, e cercheremo di vederlo secondo quattro modelli. I modelli sono medico-clinico, quello filosofico, quello di stampo bioetico o bieticista, e poi il modello di stampo sociale. Ora, ricapitoliamo brevemente, noi siamo partiti il settembre dell'anno scorso, 29 settembre del 2023, e con un percorso che ci ha portato a vedere, mettendo tassello per tassello, in primo luogo un'introduzione, e in questa introduzione abbiamo iniziato ad avvicinarci alla disciplina, capire un attimo il tema della neuroetica, del neuroeticista, e adesso vedrete che sia il modello che presenteremo, quello della neuroetica, secondo il modello medico-clinico, avrà i due protagonisti, con lei che conia il neologismo, analisa il mapponzius, colui che parla del neuroeticista, Ronald Eugene Cranford. Ecco, abbiamo iniziato con una lunga introduzione, dove abbiamo visto il contesto neurocentrico contemporaneo. Ci siamo soffermati a considerare quelli che sono stati i pilastri, la nascita delle neuroscienze, chi ha coniato questo neologismo, 1962, Francis Otto Schmitt, dalla biofisica alla fisica o biofisica della mente, le neuroscienze, e poi abbiamo anche cercato di vedere un escursus epistemologico sulle stesse neuroscienze. Su questo do una notizia, abbiamo confermata la presenza del professore Evandro Ragazzi, un grande filosofo della scienza, forse uno dei più grandi filosofi della scienza vivente, per i mesi tra aprile e maggio, forse più verso maggio, avremo un dialogo con Evandro Ragazzi. Il sottoscritto è un grande antropologo e bioeticista, professore ordinario alla Gregoriana, alla Facoltà di Filosofia, il professor Ramon Lucas Lucas. dialogheremo con Evandro Ragazzi, quindi avremo la fortuna, il privilegio di avere nel nostro corso, questa è anche la notizia, una delle belle notizie di quest'anno, e ci sono tante, dove avremo appunto quello che abbiamo visto nell'ambito dell'epistemologia delle neuroscienze. Ecco, potremo toccare con mano, ascoltarlo e ascoltare e interagire con un grande filosofo che anche nella sua carriera di filosofo della scienza epistemologo, lui è esperto anche della filosofia, della matematica, della fisica, eccetera, nel suo più recente volume, Dimostrare l'esistenza dell'uomo, edito da Mimesis, Mimesis sta raccogliendo, sta editando tutte le opere complete di Evandro Ragazzi, e ha parlato in tre grandi capitoli delle neuroscienze, del tema importante della relazione mente-corpo, mente-cervello, della mente e del corpo e del cervello in relazione, diciamo, e da lì abbiamo estratto una sorta di epistemologia delle neuroscienze. Ne parleremo con lui. Poi abbiamo visto degli scenari, abbiamo visto alcuni, una narrativa storica delle neuroscienze, e poi abbiamo toccato con mano la voce di un neurochirurgo, questo era quello che abbiamo visto a dicembre, un neurochirurgo che si confronta con la materia e dalla sua disciplina sorgono quelle domande fondamentali di stampo neuroetico. Vedremo anche che alcune delle questioni che mettevo nell'introduzione, per esempio il tema dei cosiddetti organoidi cerebrali, o anche oggi si parla anche non solo di intelligenza artificiale, ma anche, pensate, di intelligenza organoide, ne affronteremo questi scenari con un esperto di neuroetica a livello italiano, Andrea Lavazza, che ci farà anche lui l'onore e il piacere di essere qui presente all'inizio di marzo, poi chiariremo bene la data, all'inizio di marzo di quest'anno, per parlare, affrontare questa questione, potremmo dire, proprio emergente della riflessione neuroetica contemporanea. Ed oggi, dopo aver visto tutto questo, arriviamo, inseriremo quello che faremo oggi, inseriremo nella narrativa storica delle neuroscienze, per i nostri studenti, nella piattaforma, poi dirò verso la fine, Canvas, Tutti i nostri iscritti ricevano una matricola, un codice, una matricola, che è collegata poi alla nostra piattaforma multimediale, che utilizziamo, che si chiama Canvas. Alla fine ripeterò questo punto, e se avete dei problemi vi indicherò a chi rivolgervi. Comunque, i nostri studenti sulla piattaforma Canvas hanno già cinque video caricati, perché il quinto precedeva l'incontro di dicembre, e era proprio un video sulla narrativa storica delle neuroscienze. Ora, cosa faremo? Collocheremo all'interno di questa narrativa storica delle neuroscienze, che, come dicevo in quel video, chi non l'ha visto può rivederlo, ammonta oltre 5.000 anni di storia, se noi consideriamo, diciamo, dall'antico Egitto fino ad oggi alle neurotecnologie contemporanee, e all'interno di questa lunga narrativa storica, sin dagli inizi ci si rende conto della relazione importante che quel contenuto, quell'organo contenuto nella teca cranica, ha nei confronti di tutte le facoltà motorie, vegetative, di controllo dell'omeostasi corporea, ma anche persino cognitive, psichiche, emnestiche e anche volitive, ha. Quindi l'importanza di quest'organo, e poi in modo più esteso di questo sistema, il cervello fa parte, che è il sistema nervoso, gioca nella importanza anche antropologica per quanto concerne l'essere umano, la persona umana. Bene, questa era una breve ricapitolazione sono stato molto telegrafico per arrivare adesso al primo punto. La narrativa storica della neuroetica. Questa narrativa storica noi ha dei prodromi, potremmo dire così, prima di vedere quelli che sono stati gli autori, ecco qui, diciamo in generale, non spaventatevi. In questa narrativa storica noi andremo a toccare diversi personaggi, sono qui illustrati alcuni, sicuramente Annalisa Alma Pontius, Ronald Eugene Cranford, Patricia Smith Churchland, e poi William Sapphire, forse Walter Glennon. E per arrivare verso il modello sociale di neuroetica vedremo certamente a Dina Roskis, Judy Hilles, e poi anche per il modello sociale più il padre della neuropsicologia contemporanea, Michael S. Gazzaniga, o Gazzaniga, che sui noti volumi e libri anche tradotti in italiano. Allora, infatti, perché questa narrativa storica? Perché coprirà poi uno degli obiettivi importanti che noi avevamo, c'eravamo prefissati all'inizio di questo percorso. quello che lo studente, il discente, l'appassionato di neuroetica che è iscritto al nostro percorso, i nostri ricercatori, ecco, avranno, sapranno comprendere la fine di questo percorso e descrivere le principali correnti o modelli all'interno della neuroetica. e poi inizieranno a conoscere alcune delle aree specifiche della neuroetica stessa. Ora, dove ci collochiamo nel nostro contesto? Se vi ricordate all'inizio, nell'introduzione a settembre-ottobre, avevamo visto questo grafico. Noi adesso ci situiamo tra la seconda e la terza grande rivoluzione industriale a cavallo, potremmo dire così, dagli anni venti fino al dopoguerra, ci collocheremo all'inizio qui come prodromi dell'inizio della neuroetica. Ma sappiamo poi che, se ho dato già questa coordinata a 1973, come neologismo, il neologismo sorge a cavallo tra la terza e la quarta rivoluzione industriale. Perché adesso ci ricollochiamo un po' più indietro? Perché dovremmo vedere come mai l'etica entra, cosa c'entra l'etica nel discorso neuroscientifico. E allora ci situeremo qui. Perché? Questa è una linea del tempo, dell'evoluzione della stessa bioetica, della stessa bioetica nata, potremmo dire così, dall'antichità, anche qui si potrebbe fare tutto un corso, effettivamente noi abbiamo una facoltà di bioetica dove si concentra e si abbordano tutte le questioni, anche lo statuto epistemologico di questa disciplina. Comunque, per, diciamo, contestualizzare, ecco, l'evoluzione della bioetica da sempre e soprattutto dal padre della medicina occidentale, Ippocrate, e nelle sue vaste opere, circa una novantina, anche se non tutte, il corpus Ippocraticum è attribuito esclusivamente a Ippocrate, però da queste opere ce ne sono diverse, proprio sul ruolo del medico. Abbiamo il giuramento di Ippocrate. Poi, non ultima, una delle opere importanti nel tema anche della neuroetica è proprio quella sull'epilessia, il male sacro, de morbo sacro. Ecco, allora, nella storia della bioetica potremmo dire così se c'è tutto uno scursus molto antico, ma la parola bioetica viene coniata, vedeteci, qui c'è Fritz Jarr, l'ultimo, l'ultimo punto di questa cronostoria, siamo nel 1923 esattamente, poi nel 1927 soprattutto il neologismo viene coniato. Sarà poi l'oncologo Van Rassler-Potter che dagli anni 70 e poi, 1970 e 71, prima in un articolo e poi pubblicato diciamo nell'articolo Bioethics prima a review of the ethical relationship of humans to animal and plants, poi abbiamo tutto lo sviluppo della Bioethics A Bridge to the Future Un ponte verso il futuro dove effettivamente Potter fa un'analisi di stampo anche biologico sistemico ma che si apre poi al tema dell'ecologia quindi anche una visione anche ecologica della bioetica ma perché parlevamo appunto gli anni 20 eccetera parlavamo della bioetica e poi soprattutto questi temi di bioetica diventano fondamentali dagli anni 70 in poi allora una delle grandi ragioni è perché purtroppo noi abbiamo avuto due grandi conflitti soprattutto il secondo mondiali quindi la seconda guerra mondiale ha aperto dopo la seconda guerra mondiale si è sempre di più capito o almeno è cresciuta la conscienza che la scienza non è neutra che le scoperte scientifiche in sé sono un bene per l'umanità certamente ma che queste scoperte non sono fine a se stesse e sempre possono essere utilizzate usate strumentalizzate abusate e quindi c'è sempre una connotazione che rimonta alla radice la ferita che l'essere umano porta in sé questo grande mistero del bene e il male del giusto e sbagliato questo l'abbiamo visto purtroppo dicevo in modo patente eclatante uno alla fine della guerra l'utilizzo del nucleare quindi la bomba atomica ma dopo si è compreso quando abbiamo compreso le atrocità dei campi di concentramento in Germania abbiamo visto proprio anche gli orrori all'interno della stessa prassi medica che era stata potremmo dire così era stata non correttamente interpretata anzi era stata calpestata nei suoi principi da diversi medici del terzo Reich soprattutto abbiamo questo famoso medico Mendele che aveva fatto degli esperimenti terribili terrificanti proprio anche in base alla genetica ma in base anche all'utilizzo di sostanze in base anche a esperimenti chirurgici eccetera e quindi diciamo patentemente è emerso questo fatto cioè la scienza non è neutra la scienza sempre può essere utilizzata verso quello che noi chiamiamo uno sviluppo potremmo dirlo così integrale della persona umana nelle sue varie dimensioni ma anche queste scoperte scientifiche purtroppo possono essere utilizzate per compiere tanto male allora questo aveva toccato soprattutto che cosa dagli anni in venti in poi se vi ricordate anche nell'introduzione noi parlavamo delle elettrostimolazioni nella corteccia cerebrale parlavamo vi avevo raccontato la storia degli anni sessanta con José Manuel Rodriguez Delgado il toro di Pamplona il neuroscienziato che aveva impiantato gli elettri nel toro nella teca cranica del toro dimostrando dagli anni sessanti in poi la possibilità di manipolare la condotta dell'animale quindi il comportamento nell'essere umano ecco questi esperimenti rimontavano agli anni venti e trenta e dopo la subito dopo o diciamo durante il conflitto bellico prima e dopo il conflitto bellico già erano attive delle società scientifiche riguardanti il cervello umano ricordatevi che se è vero neuroscienze è un termine che viene coniato nel 1962 da Francis Otto Schmitt con intento di mettere insieme quelle discipline che già riguardavano il cervello il sistema nervoso pensate alla neuroanatomia alla neurofisiologia ecco allora c'erano già delle società scientifiche riguardanti queste discipline quello che fece poi Francis Otto Schmitt fu quello di inserire in un contesto che poi chiamò neuroscienze queste discipline quindi noi ci troviamo che a cavallo degli anni quaranta abbiamo le prime società scientifiche riguardanti il cervello umano correlato con questo ci sono tutte lo sviluppo neurotecnologico pensate all'introduzione dagli anni ventinove in poi con la crisi la famosa crisi del ventinove ma in quell'anno vennero introdotte le tecniche della misurazione proprio della corrente elettrica della corteccia cerebrale quindi l'elettroencefalogramma e effettivamente si creano delle vere e proprie società a Londra nel nel continente europeo in Germania in Spagna in Francia e poi negli Stati Uniti riguardanti le varie discipline afferenti al cervello e al sistema nervoso e all'inizio negli anni quaranta cinquanta o quaranta soprattutto queste società riguardavano semplicemente o riguardavano solo o esclusivamente degli aspetti tecnici quindi tecno-scientifici dibattevano dei dibattiti sullo stato dell'arte in queste discipline e quindi non c'era ancora una sensibilità potremmo chiamarla etica anche se lo stesso Francis Otto Schmitt si rese conto poi che subito parlando di neuroscienze parlavamo di questa relazione mente-corpo mente-cervello che tocca gli assi importanti antropologici quindi apre la strada verso una discussione di ordine antropologico di ordine filosofico etico sull'azione sull'azione degli stessi ricercatori ma sull'azione anche della persona che magari si trova in uno stato di uno stato in cui viene alterato in qualche modo il suo assetto neurofisiologico allora queste prime società scientifiche agli inizi non avevano un connotato di stampo etico soltanto dopo soprattutto la seconda guerra mondiale quando poi abbiamo avuto eccoci qua il codice di Norimberga e poi vari altri codici sui diritti umani non perché vengono scoperti così cioè vengono ideati i diritti umani ma i diritti umani sono riconosciuti e quindi portati avanti da questi codici l'essere umano ha sempre avuto questi diritti o queste dimensioni che vengono riscoperti adesso purtroppo dopo delle situazioni tragiche come quelle della seconda guerra mondiale ecco allora ci siamo in questo contesto e soprattutto siamo in un contesto come dopo chiariremo ci servirà per capire la nostra narrativa storica della neuroetica dopo la seconda guerra mondiale c'è un'esplosione anche pensate nel 1953 la pubblicazione di un piccolissimo articolo da parte di Francis di Watson e Crick Francis Crick e James Watson che ricevettero poi il premio Nobel perché avevano caratterizzato quella macromolecola di desossi ribonucle acido desossi ribonucleico che era il nostro materiale genetico il DNA quindi pensate a tutto dopo la seconda guerra mondiale c'è un'esplosione dal punto di vista della genetica c'è un'esplosione anche dal punto di vista della ricerca neuroscientifica e soprattutto c'è l'introduzione della tecnologia pensate già negli anni 50 abbiamo l'introduzione delle tecnologie il polmone d'acciaio la tecnica di respirazione quindi di intubazione di quello che in gergo americano dicono resuscitation però è la rianimazione e tutta questa tecnologia che permette effettivamente di mantenere di far sopravvivere dei pazienti che prima non avevano avuto speranze di vita e soprattutto poi si creò un'ampia popolazione di pazienti in stati variegati di alterazione della coscienza e quindi dovevamo anzi si cominciava alla fine degli anni 60 a pensare effettivamente a dei nuovi criteri rispetto ai criteri cardiocircolatori per stabilire non l'esatto momento perché questo non può essere stabilito da nessun mezzo diciamo tecnologico empirico esatto momento no ma quando la persona era morta quindi dei criteri per l'accertamento della morte e qui vedete in fondo sempre nel diagramma abbiamo i criteri di Harvard una commissione ad hoc costituita nel 1968 proprio la commissione ad hoc di Harvard per i criteri di morte cerebrale dovremmo parlare più meglio di encefalo però così si chiamava infatti per una definizione loro lo chiamavano così a quell'epoca adesso non è corretto una definizione per arrivare a una definizione di quello che loro chiamavano coma irreversibile ovviamente c'è una bellissima cioè nel senso c'è una vasta differenza una distante differenza tra il coma e la morte cerebrale comunque siamo in questi momenti perché saranno anche questi momenti importanti per la nascita della nostra disciplina e capiremo meglio dopo soprattutto con il secondo personaggio nel paradigma medico-clinico Ronald Eugene Cranford quegli anni anche lo dico perché dopo sarà il contesto della nostra autrice Annalisa Naponzius abbiamo anche negli Stati Uniti soprattutto una dal punto di vista della psicologia e quindi dell'interpretazione dell'azione dell'essere umano un revival o una grande promozione di scuole afferenti a quella che si chiama la corrente comportamentista lo rivedremo e quindi qui vi ricordavate vi ricordate sicuramente all'inizio parlavamo dell'incontro tra la neurocultura e la cybercultura mettevamo questa data 1965 quindi anche qui sempre il nostro contesto storico e 65 quando esplode anche a livello di interesse mediatico la possibilità di manipolare il comportamento umano attraverso pseudostimolazioni chip neurali cominciano anche riviste negli anni fine anni 60 inizio degli anni 70 riviste divulgative ma anche riviste tecniche e filosofiche a disquisire sulla possibilità o che cosa questi dispositivi ipotetici allora adesso sono sempre più presenti anche se ancora ipotetici come per esempio quelli che ipotizza Elon Musk nella sua Neuralink come questi dispositivi possono effettivamente interagire e manipolare o alterare o potenziare il tema del potenziamento diverse facoltà o caratteristiche dell'umano qui José Manuel Rodriguez Delgado che effettivamente lavorando negli anni 30 e 40 aveva fatto enormi progressi dal punto di vista delle estrostimolazioni prima ovviamente studiando in vitro il comportamento delle cellule neurali poi attraverso impianti cerebrali e elettrostimolazioni sull'animale purtroppo in quegli anni anche con non molta sensibilità rispetto anche al dolore che possono provare soprattutto animali più evoluti come le scimmie vedete lì e il toro per esempio e quindi avevamo tutta questa speculazione che poi dall'ambito tecno-scientifico qui vediamo un connotato interessante comune a molti neuroscienziati anche dell'attualità ma soprattutto quelli che avevano iniziato a studiare il rapporto mente corpo cervello anima eccetera erano si interessavano proprio su quelle possibilità che la neuroscienza in quel momento offriva e avevano anche una sensibilità verso tematiche filosofiche tipo quelle del libero arbitrio quelle della volontà libera pensate che anche sono di questi anni gli esperimenti dagli anni 70 in poi su quelli che sono oggi definiti correlati neurali del libero arbitrio della libertà tutta la corrente sviluppata dal a partire dagli anni 70 dal neurofisiologo benjamin libet che poi oggi dopo più di 40 anni di esperimenti libet passò potremmo dire così il testimone a grandi gruppi di ricerca europei soprattutto che portano avanti questa ricerca sui correlati neurali della volontà libera o dell'azione volontaria umana attraverso per esempio risonanza magnetica funzionale José Manuel Rodríguez Delgado aveva effettivamente parlato proprio del controllo fisico aveva proprio pubblicato un'opera anche di interfaccia tra neuroscienze e riflessione filosofica sul controllo fisico della mente perché questi scenari portavano a queste riflessioni quindi ci stiamo collocando dal punto di vista cronologico con questi dati che ci fanno vedere in modo patente e la rivista Time dedicò la copertina proprio a questa sperimentazione che suscitò tanto scalpore perché sarà possibile manipolare controllare la condotta nell'animale di conseguenza era possibile farlo anche sull'essere umano e questo apriva grandissimi scenari ecco per quanto riguarda 1968 vi dicevo il tema della commissione ad hoc di Harvard sui criteri di morte cerebrale nel 69 un grande centro bioetico importante The Husting Center negli Stati Uniti aveva proprio iniziato sulla scia proprio di questo report e di questa commissione ad hoc a interessarsi proprio di tutti quei traumatismi cranici che portavano a una compromissione o a una lesione a livello cerebrale che potevano essere di vario ordine quello traumatico ma anche fenomeni endogeni un ictus emorragico eccetera che effettivamente alteravano lo stato di coscienza quindi il tema grande uno dei grandissimi temi epilasti sarà il tema della coscienza e anche qui il Husting Center dal 69 in poi porta avanti anche tuttora una riflessione con una interpretazione molto particolare e molto diversa dalla nostra però sulle neuroscienze sulla neuroetica vedete qui sulla mappa sempre della neuro della bioetica abbiamo diverse altre situazioni 1960 70 soprattutto c'è da un versante del fine vita abbiamo visto della fine vita avevamo tutto il tema della morte cerebrale ma anche il tema della rianimazione il tema di poter mantenere tecnicamente tecnologicamente persone far sopravvivere persone che prima non potevano sopravvivere e che poi potevano sviluppare degli effetti diciamo di altre altra natura paralisi piuttosto che altre situazioni neurologiche eccetera con anche situazioni anche di menomazione non indifferente dall'altra abbiamo tutto il tema del polo opposto quelli dell'inizio della vita e quindi la tecnologia che entra pervasivamente nella vita capendo l'essere umano è l'essere che riesce a capire a comprendere in questo caso i cicli i cicli della vita umana e intervenire in modo manipolativo pensate a tutto il tema della della manipolazione della fecondità della fecondazione umana quindi tutte le tecniche anche di possibile fecondazione in vitro eccetera iniziano tutta questa serie pensate gli anni 80 poi fu la prima bambina anche ottenuta attraverso la fecondazione in vitro e quindi abbiamo tutto questo contesto anche dove si fa vedere proprio come la tecnologia quando tocca dimensione dell'umano fa sorgere questioni problemi conflitti eccetera e la necessità di una disciplina in questo caso la bioetica per dirimere qui invece abbiamo anche delle degli altri casi clinici che ricorderemo tra poco però li metto nel contesto vedete 1975 per esempio c'è un nome particolare Karen Karen Al Quinlan Case il caso di il caso Quinlan il caso Quinlan era un caso particolare che seguì il dottor il neurologo Ronald Eugene Cranford e vedremo quindi stati di alterati di coscienza che venivano chiamati stati vegetativi permanenti venivano chiamati e che vennero studiati e tra poco ne parleremo dal neurologo Cranford quindi stiamo anche qui tecnologia che interviene tecnologia manipolativa eccetera e appunto negli anni ci sono commissioni per dirimere queste problematiche di carattere etico anche appunto nelle società scientifiche riguardanti il cervello già dagli anni settanta effettivamente iniziano a essere a svilupparsi soprattutto comitati etici comitati etici all'interno delle stesse società pensate poi che nel 1969 nasce la società di neuroscienza a livello mondiale e in questa società sin dagli anni settanta iniziano delle conferenze dei simposi delle tavole rotonde sulle questioni etiche vedete il cosiddetto comitato di responsabilità sociale sulle questioni sociali etiche diciamo dopo tre anni dalla fondazione della società mondiale di neuroscienze viene costituito e poco a poco quelle questioni etiche per i motivi addotti quindi la pervasività delle tecnologie nell'ambito della vita e diciamo iniziano questi sono un po' i prodromi data importante che segna diciamo in modo particolare la nascita dell'aneuretica sarà il 1973 siamo nell'agosto del 73 quando su una rivista molto specializzata per sexual e motor skill Annalise Alma Ponziu Annalisa Alma Ponziu a quell'epoca della scuola di medicina dell'università di New York pubblica un articolo dal titolo Neuroethics of Walking in a Newborn la neuroetica del camminamento del neonato allora nel neonato allora lo affronteremo tra poco cercheremo di vedere bene dove Annalise Alma Ponziu parlerà e lì dal titolo e poi nell'ultima pagina dell'articolo pagina 244 si dice che questa frase a new and neglected area of ethical concern neuroethics quindi è una nuova enegletta area della riflessione etica la neuroetica così era stata presentata e poi lo vedremo meglio la neuroetica nel 1973 questo è la prima primo riconoscimento in letteratura del neologismo neuroethics neuroetica quindi 1973 adesso vedremo le carrellate della narrativa storica qui avevo semplicemente per capire Annalise Alma Ponziu 73 ma gli articoli poi sulla neuroetica saranno 73 74 75 76 77 78 continuerà molto solo che diciamo potremmo dire così il fatto che pubblicasse essendo una neuropsichiatra su riviste molto specializzate molto tecniche di questioni molto specialistiche molto tecniche non venne riconosciuto la sua maternità la sua maternità del neologismo fino al 2013 sostanzialmente comunque nel subito dopo aver parlato di neuroetica vedete abbiamo i report il report Belmont report proprio per tutti i temi riguardanti anche alla genetica la ricerca eccetera per cercare di plasmare dei principi no? il rispetto per la persona però anche lì bisogna capire cosa si intende col termine persona il principio di beneficenza il principio di giustizia il tema che sempre emerge in qualsiasi di questo il consenso informato la ponderazione quindi il bilancio tra rischi e benefici degli interventi clinici di sperimentazione o di manipolazione e poi anche nei programmi di sperimentazione anche la scelta quali sono i criteri per far entrare i partecipanti in una ricerca per esempio sperimentale e poi abbiamo anche i famosi nel 1939 Bochamp e Children's che sono nomi importanti nell'ambito della bioetica perché presentano una quattripartizione di principi che diventa un po' come una sorta di nocciolo duro nelle riflessioni neuro scusate bioetiche e anche contemporanee il principio di autonomia di beneficenza di non maleficenza e di giustizia e poi sarà interessante poi anche questo ovviamente poi abbiamo tutto lo sviluppo di cui adesso non mi soffermo dalla genetica eccetera e sempre alla fine della nostra schema abbiamo il caso Terry Schiavo del 1998 poi noi avremo un caso analogo in Italia il caso di Eluane Inglaro eccetera casi che vedremo saranno trattati nel contesto e scusate del 1990 vedetelo più su il caso di Nancy Kruzan e quello slogan del diritto a morire o una sorta di l'inizio a cui potremmo dire così anche come slogan eccetera una sorta di pseudo nuovo diritto il diritto a morire e morire in che modo anche perché non è un diritto ma è potremmo dire una condizione intrinsecamente dopo bisognerebbe riflettere dal punto di vista teologico ma che tutti moriamo diciamo che l'essere umano è un essere mortale è la logica ogni essere vivente è mortale l'essere umano è un essere vivente l'essere umano è mortale allora l'essere umano siamo mortali e quindi diciamo moriremo prima o poi e in questo tema è tutto il tema di come morire e del cosiddetto bel o ben morire il tema anche dell'eutanasia bene allora nella cronistoria 1989 Ronald G.G. Cranford eccolo qui ce ne occuperemo tra poco neurologo parla in un suo articolo della figura del neuroticista e cercheremo di capire quindi stiamo vedendo passaggio per passaggio dal punto di vista storico se gli anni potremmo dire così se gli anni 70 70 80 nell'analisi che facciamo oggi di modellizzazione della neuroetica prevale il cosiddetto paradigma o modello medico-clinico quindi dalla clinica giustamente potremmo dire così sorgono le questioni pratiche e si interrogano poi sulle ripercussioni di determinate sperimentazioni manipolazioni interventi eccetera se allora gli anni 70 80 il paradigma diacronico che si afferma è quello medico-clinico verso la fine degli anni 80 1986 e soprattutto anni 90 la neuroetica viene declinata soprattutto dal punto di vista filosofico sarà quindi paradigma filosofico non esclusivo ovviamente ma sarà Patricia Smith Churchland che da allora in poi e continua ancora adesso Patricia Smith Churchland molto attiva anche se già professoressa emerita moglie di Paul Churchland un grande filosofo della mente i due hanno creato una corrente all'interno della cosiddetta filosofia della mente di stampo anglosassone e di stampo analitico parlando effettivamente di una corrente di interpretazione del rapporto mente-corpo che chiamano eliminativismo l'eliminativismo del mentale non a caso nel 1992 Patricia Smith Church pubblicò un volume intitolato proprio il cervello computazionale già questo titolo ci indica il modello la precomprensione e l'interpretazione di questa filosofa ricordiamo una filosofa per quanto concerne il rapporto mente-corpo utilizzerà il paradigma degli anni 70 ormai obsoleto e anche nel 90 era obsoleto però degli anni 70 del paradigma computazionale Patricia Smith Church porterà e parlerà della neurotica nel contesto più filosofico riguardante le tematiche dell'esperienza soggettiva del sé corporeo del sé soggettivo l'esperienza dell'autocoscienza e anche di tutti quei casi anche lei parlerà anche delle demenze parlerà anche di altre situazioni in cui c'è un'alterazione dello stato autocosciente quindi ovviamente ci sarebbero altri filosofi ce ne sono adesso li vedremo poi successivamente anche altre interpretazioni filosofiche non solo ma vedete qui nella linea del tempo della bioetica che si può trovare che poi forniremo anche ai nostri studenti attraverso la piattaforma canvas vedete 2002 neuroethics vedete anche in questa linea del tempo la neuroetica viene fatta sorgere in un tempo come in 2002 perché dopo lo spiegheremo meglio questo famoso convegno sulla neuroetica rimappando il territorio in cui ecco si diventa più potremmo dire così appannaggio di molti il neologismo sempre nei contesti poi degli anni 2000 quindi negli anni 2000 sostanzialmente a partire da questa conferenza qui vedete anche la pubblicazione degli atti promossa ne parleremo dall'Adena Foundation dal 2002 in poi la Università di Stanford e altre istituzioni una prima conferenza in cui circa 150 tra neuroscienziati filosofi esperti di politica e ricordiamo adesso qui William Sapphire il politologo del New York Times che diede aprendo questa conferenza il 13 maggio del 2002 diede una definizione che poi divenne un po' canonica nel senso che la definizione di William Sapphire divenne eccoci qua e lui disse l'analisi intendo come neuroetica l'analisi di ciò che è buono scusate corretto incorretto buono cattivo rispetto a tre dimensioni lui diceva rispetto al trattamento quindi vedete salute e malattia siamo in questo ambito il trattamento poi invece c'è un ambito tra nell'ambito della salute c'è il tema del miglioramento o potenziamento enhancement noi già siamo oltre i confini del paradigma malattia terapia ma siamo nel soggetto sano che vuole potenziare alcune abilità o capacità soprattutto cognitive e poi terzo grande ambito dice rispetto al trattamento o miglioramento agli interventi e manipolazioni quindi gli interventi e qui entra tutto il tema della tecnologia l'ibridazione uomo-macchina eccetera e le manipolazioni che possono essere anche con le neurotecnologie più rudimentali come i psicofarmaci ricordo che il primo psicofarmaco è entrato proprio anche in commercio è la cropromaccina per la schizofrenia quindi siamo negli anni 1950 ma ecco lo psicofarmaco è una vera e propria neurotecnologia e dice William Sapphire spesso tutte queste cose preoccupanti rivolte questo trattamento miglioramento interventi manipolazioni spesso preoccupanti sul cervello umano così questa diciamo divenne un po' la definizione canonica che poi molti riprendevano per dire la neuroetica è stata definita per la prima volta da William Sapphire nel 2002 e per molto tempo almeno una decina d'anni e questo fu la narrativa questa fu la narrativa cioè fino al 2013 sostanzialmente la narrativa era questa la neuroetica inizia nel 2002 potete anche fare la prova se voi andate nel motore di ricerca PubMed e digitate il termine neuroetica in inglese neuroethics vi appare vi compare a fianco o a destra o a sinistra dipende dal come visualizzate il motore di ricerca di solito è in basso a sinistra un grafico con la frequenza delle pubblicazioni negli anni e di solito parte proprio dal 2002 in poi c'è una crescita esponenziale dell'utilizzo di questo neologismo se fate la ricerca su PubMed adesso invece troverete se voi vedete nella linea del tempo andate indietro nel tempo e trovate il primo articolo che parla di neuroetica troverete effettivamente 1973 Analis Alma Pontius sempre siamo semplicemente nella cronistoria subito dopo la 2002 siamo quindi pilasso importante ah quello che vi dicevo scusate non l'ho detto e qui c'è un altro William Safare poi continua nella sua narrazione della neuroetica e effettivamente dal 2002 gli anni 2000 sono il paradigma sostanzialmente bioetico bioeticista cioè William Safare stesso dirà che la neuroetica secondo lui è una parte della bioetica quindi il modello bioeticistico perché perché si intende neuroetica adesso come quella parte della bioetica speciale secondo Elios Grecia la bioetica due grandi rami e quella speciale sono le bioetiche che si rivolgono a determinati organi e apparati in questo caso quando tocchiamo dal punto di vista di interventi manipolativi tecnologici eccetera il cervello umano il sistema nervoso staremo parlando cioè parleremo di quella visione di bioetica specialistica che noi chiamiamo neuroetica quindi gli anni 2000 sono caratterizzati da questo modello bioeticistico ok di neuroetica poi vedremo che dagli anni 2005 sostanzialmente in poi avremo sorge un altro tipo di modello che è quello sociale cioè è un'evoluzione potremmo chiamarla così nel luglio del 2002 Adina Roskis che è una neuroscienziata e anche una filosofa canadese torna a casa sua era presente lei nella conferenza di San Francisco in California e scrive un articolo di tre paginette sulla rivista Neuron che si intitola proprio la neuroetica per il terzo millennio nella quale questo articolo analizza scusate Adina Roskis divide suddivide fa un'analisi semantica del termine e dice la neuroetica si può considerare come l'etica delle neuroscienze da una parte e le neuroscienze dell'etica dall'altra poi all'interno dell'etica delle neuroscienze lei suddividerà ulteriormente il lo suddividerà l'etica delle neuroscienze in etica della praspare ed etica delle ricerche neuroscientifiche e invece con neuroscienze dell'etica intenderà effettivamente tutti quegli sviluppi neuroscientifici che hanno come finalità ripresentare ridefinire riarricchire in questo senso concetti classici come quelli del libero arbitrio dell'autocoscienza eccetera e questa è la duplice o duale suddivisione che avevamo già considerato all'inizio anche quando prendevamo nell'introduzione poi il contesto duale della neuroetica ecco qui che adesso abbiamo in aggiunta chi è l'autrice che parla di neuroscienze dell'etica etica delle neuroscienze di Naroskis possiamo vedere altre date ma facciamo un salto c'è 2000 sì dovremmo inserirlo prima scusate è vero non l'ho inserito però 2005 sarà Michael Gazzaniga Michael Gazzaniga che presenterà il modello neuroetico di stampo sociale parlando nel suo The Ethical Brain tradotto in italiano la mente etica quindi in inglese dice il cervello etico invece in italiano hanno tradotto la mente etica proprio associando facendo una uguaglianza scorretta anche epistemologicamente tra cervello e mente però vabbè in italiano si chiama la mente etica codice editore e in quel volume del 2005 Michael Gazzaniga padre potremmo dire così della neuropsicologia contemporanea proprio per il frutto lo vedremo per la sua fortuna di essere stato allievo del premio Nobel Roger Sperry che vinse il premio Nobel insieme poi altri due importanti scienziati che avevano dimostrato per la prima volta negli anni 70 questi altri due avevano Ubele e Weizen avevano dimostrato per la prima volta gli effetti epigenetici quindi di come l'ambiente in particolare come quello che in inglese si chiama nurture l'accudimento anche materno eccetera poteva modificare il cervello quindi ecco fenomeni di mal potremmo dire malnutrizione maladattamento situazioni di maladattamento familiare eccetera eccetera avevano un effetto a livello neurale e un effetto negativo a livello neurologico a 2006 abbiamo se gli atti del convegno del 2002 della Diana Foundation per questo primo convegno erano stati pubblicati gli atti non possiamo considerarlo come un vero proprio manuale di neuroetica ma una raccolta di atti il primo vero manuale lo dà Giudilless nel 2006 Giudilless edita e rappresenta anche lei alla conferenza di San Francisco edita questo primo volume cercando di definire la neuroetica dal punto di vista teorico pratico e anche nelle sue ripercussioni più sociali nell'ambito anche delle politiche sociali e produce questo volume 2006 edito dalla Oxford University Press due anni dopo e già si consolida la letteratura dal 2002 in poi aumentano gli articoli scientifici indicizzati con il neologismo neuroetica tanto che la Springer una famosa casa editrice inaugura a cura del direttore un filosofo Neil Levy la rivista neuroetics quindi dal 2008 in poi abbiamo una rivista specializzata la prima rivista specializzata nell'ambito di questa disciplina la neuroetica bisognerebbe parlare di tante altre cose ma se noi vogliamo continuare questa linea cronologica importanti saranno poi le pubblicazioni vedete qualsiasi grande casa editrice soprattutto in anguia di Traglosassone al suo manuale Handbook of Neuroethics la Oxford inizia con questo Oxford Library of Psychology vedete poi anche dove collocare la neuroetica c'è chi la colloca in psicologia in neuroscienze e poi vedremo adesso e anche in filosofia nel 2011 appunto The Oxford Handbook of Neuroethics un volume enorme e poi ancora di più il tre volumi tre volumi 1850 pagine 23 sezioni 117 capitoli la Springer pubblica nel 2015 in cartaceo l'Handbook of Neuroethics gli editori sono due filosofi John Clausen e Neil Levy che già era dittore della rivista Neuroethics e in questo volume poi cercheremo di vederlo si dà quella che è considerata la definizione più estesa di Neuroethics io la metto già qui subito poi noi ne riparleremo più avanti secondo questi autori e a mio avviso questa è la definizione più corretta più estesa quella che colpisce al centro no? come se noi dovessimo giocare a questi giochi con le frecce no? e ci sono l'arco e la freccia o le freccettine e ci sono no? i circoli no? sì William Sapphire era bene diciamo potremmo dire così si avvicinava ma non aveva toccato il centro del bersaglio mentre Neil Levy John Clausen centrano il bersaglio definendo la neuroetica come una riflessione sistematica informata sulle neuroscienze ma non basta sulle stesse interpretazioni delle scienze neurali quindi non basta solo la riflessione che è già tanto sistematica informata qual è la disciplina che fa una riflessione sistematica informata è la filosofia che ha una metavisione sulla realtà quindi una sorta di la neuroetica intesa come riflessione sistematica informata sulle neuroscienze ma non basta perché come vi avevo detto anche all'inizio nell'introduzione le interpretazioni sono molto i paradigmi interpretativi giocano un ruolo importantissimo e quindi anche sulle interpretazioni delle stesse scienze del sistema nervoso che includono le discipline in rapporto con la mente cui dicono gli autori la psicologia con tutti i suoi metodi perché le scuole psicologiche sono enormi tantissime in Italia abbiamo sei grandi scuole suddivise in tutte le altre sottoscuole la psichiatria persino vedete 2015 l'intelligenza artificiale eccetera vedremo anche perché ne parlerà la stessa analisa di intelligenza artificiale e di modello computazionale rapporto mente corpo mente cervello quale sarebbe per questi autori la finalità della neuroetica ecco al fine quindi tutta questa riflessione sistematica informata eccetera non è finalizzata a stare nelle aule universitarie o chiuderci nel nostro mondo no è finalizzata anche a quello ma a comprendere le implicazioni di tutto questo cioè le applicazioni neuroscientifiche delle interpretazioni per l'autocomprensione umana e i pericoli e le prospettive delle loro applicazioni dicevo questo è quello che viene fuori dal 2015 2017 vedete anche la Routledge grande casa editrice non poteva fare a meno di pubblicare anche lei nel 2017 il suo Handbook The Routledge Handbook of Neuroethics questa volta edito da due neuroscienziati questo è un volume unico anche se quello della Springer costa circa mille dollari tre volumi però questo è un po' meno caro perché è un unico volume qui non so se ci sia il prezzo no penso di no e poi eccoci che dal punto di vista anche bibliografico se voi sempre su PubMed entrate e mettete un grande nome per l'ambito neuroetico è quello di James Giordano effettivamente James Giordano con cui noi l'abbiamo avuto anche qui abbiamo avuto sin dagli inizi del 20 marzo del 2009 il nostro gruppo di ricerca ha interagito fin dalla fondazione con James Giordano lo abbiamo avuto anche qui siamo andati noi anche lì negli Stati Uniti lui è il direttore del Patomach Institute di Washington DC quindi l'ambito neuroscienze sistema anche di difesa degli Stati Uniti eccetera ma è professore anche alla Georgetown University il gruppo di James Giordano pubblica dal 2014 per quattro anni quindi 2014 15 16 a 7 un articolo diviso in quattro parti quindi ogni parte veniva pubblicata in un anno diverso che è una raccolta bibliografica ovviamente ormai obsoleta nel senso che 2017 ad oggi ci sono stati tantissimi altri articoli ma è la prima raccolta bibliografica il cui pregio è stato quella di suddividere a sua volta che cosa la prima parte prendeva in considerazione proprio lo statuto potremmo dire così epistemologico della neuroetica cioè la descrizione le definizioni e alcuni campi operativi della neuroetica il secondo parlava di quella che erano gli studi vedete neuroscientific study of morality and ethics quindi sarebbero quelli che nella nostra visione abbiamo chiamato nella visione scusate di Adina Roskis sarebbe le neuroscienze dell'etica cioè come gli studi neuroscientifici possono entrano per riconfigurare approfondire la parte dei concetti classici appartenenti alla moralità e all'etica e poi quello che loro dicono e questa sarebbe scusate la cosiddetta prima first tradition neuroethics nell'ambito che diciamo nel gergo first tradition la prima tradizione di neuroeticamente la seconda sarebbe quella diciamo più immediata perché sarebbero le questioni etiche che sorgono dall'impiego delle neuroscienze cioè se io voglio fare un esperimento vi dicevo all'inizio se io voglio utilizzare ho dei pazienti in stato vegetativo e voglio cercare di risvegliarli e utilizzo delle ipotesi neuroscientifiche che bombardando con degli ultrassuoni una parte particolare della amigdala potrei risvegliare questi pazienti tutto questo non può essere fatto così no? come se fossimo ad Auschwitz no? cioè dobbiamo avere un comitato etico dobbiamo valutare dobbiamo vedere perché sono pazienti che primo sono vulnerabili due non possono esprimere un consenso informato non possono nemmeno comprendere cosa gli si dice e quindi queste sarebbero le questioni di etiche di neuroscienza quelle che viene chiamata nell'ambito della classificazione che è stata decisa in letteratura la seconda tradizione di neuroetica e poi infine il quarto articolo tocca tutte le questioni che vanno potremmo dire a 360 gradi quindi dal potenziamento farmacologico a tutti gli interventi sul dolore il tema della neuroetica dell'educazione questo è un tema molto interessante lo stiamo sviluppando con il gruppo sottogruppo sull'abito metodologia perché la stessa analisa ma pontius ha utilizzato il teologismo neuro education bisognerà vedere se è stata la prima o no anche in questo e bisognerà capire effettivamente la portata del di questo tema importantissimo poi tutto il tema del neurodiritto chiameremo adesso loro lo dicono neuroetica e diritto poi neuroetica e politica o l'ambito delle delle politiche sociali l'ambito del trans e post umanismo vedete qui questa quarta parte che loro chiamano le questioni etiche nell'ambito clinico e poi le applicazioni sociali delle neuroscienze ecco qui che abbiamo l'ultimo grande ora abbiamo concluso almeno la carrellata storica ovviamente arriva anche fino al 2022 dopo lo dirò dopo lo presenterò con le pubblicazioni nostre anche potremo arrivare anche questo 2023 2024 eccetera continuano anche non l'ho messo la Springer aveva pubblicato proprio anche un volume sulle interpretazioni nelle stesse neuroscienze dove abbiamo anche inserito il nostro gruppo di ricerca e altri gruppi nel mondo ora noi questo è il panorama che cercheremo di comprendere ovviamente per il tempo che abbiamo a disposizione noi cercheremo di condensare condenseremo i vari modelli per una presentazione che toccherà adesso gennaio e febbraio non penso di andare oltre però se non riusciamo a vederli noi avremo una lezione o una o due lezioni extra anche per poter continuare o per chiudere il discorso della modellizzazione ora entreremo sul eccoci qua il modello medico-clinico di neuroetica quindi da questa panoramica storica che voi potete aver fatto una linea del tempo aver messo queste linee storiche come degli assi su un'aste orizzontale adesso torniamo indietro mettiamo la retromarcia e arriviamo cioè torniamo al 1973 ok in questa lunga storia arriviamo andiamo nel 73 se vi ricordate quando abbiamo presentato chi siamo il nostro gruppo di ricerca eccetera avevamo detto che noi ci ispiriamo al modello medico-clinico al modello medico-clinico ovviamente questo modello medico-clinico non è così solo io lo declinerei anche un modello medico-clinico di stampo biologico-sistemico ok anche aperto al non solo al tema della sistematicità della fisica dei sistemi anche implica il tema ambientale relazionale che poi un po' la definizione va di pari in passo con la definizione di mente che vogliamo dare riprendendo i grandi studi di Daniel Sigel grande psichiatra che appunto parla e caratterizza anche la mente come un sistema incorporato e relazionale o gli studi di Thomas Fuchs dove effettivamente ci parla proprio della duplice circolarità bottom-up top-down dell'ambito mente cervello mente-corpo e anche sui temi sul filosofo canadese di cui mi sono occupato Walter Lennon che è anche un paradigma nell'ambito della neuroetica di stampo bioticistico e le sue opere che vanno effettivamente in una mente che è incorporata e situata embodied embedded mind e poi anche se vogliamo un altro grande nome in questo ambito è lo psichiatra filosofo George Northoff e ecco questa visione che analisa Alma Pontius lei medico clinico non si è anche se poi c'è un nuovo filone ne parleremo tra poco del pensiero di analisa Alma Pontius dove si è interessata anche di questioni anche dal punto di vista filosofico con un'attenzione neuroscientifica sia per quanto riguarda l'autocoscienza sia per quanto riguarda la volontà libera e avevamo detto che noi ci ispiravamo a questo modello e poi anche alla visione della definizione della Springer potremmo dire così ovviamente aperte a un dialogo interdisciplinare con una prospettiva che era la nostra una nostra far dialogare una visione a personalista di stampo allistotelico-otomista con che chiediamo essere la visione più aperta e che si possa integrare di più oggigiorno a tutte le dimensioni che le neuroscienze oggi ci stanno indicando e non è una visione ristretta o diciamo monodirezionale ma sia un approccio abbastanza olistico sistemico e relazionale l'approccio della persona umana che raspare da un'interpretazione di stampo uno stampo aristotelico-otomistico anche platonico perché Tommaso fa una sintesi tra Aristotele e Platone originaria all'interno della filosofia cristiana ecco allora noi parleremo di questo personaggio qui abbiamo diciamo il volume che è stato prodotto nella fine a novembre del 2002 editori riuniti University Press ha pubblicato questo volume in cui diciamo c'è una sintesi una prima sintesi della visione di Annalisa Alma Pontius adesso cercherò di descrivere e sia chi ci troviamo di fronte lo farò forse in modo più esteso rispetto ad altri autori perché diciamo me ne sono occupato e me ne continuo a occupare e uscirà a breve anche un articolo che forse se riusciamo metterò a disposizione anche i nostri studenti che ho intitolato il modello medico-clinico-biologico-sistemico di neuroetica sviluppato da Annalisa Alma Pontius tra neuroscienze psichiatria e filosofia dell'azione e questo articolo dovrebbe uscire sulla rivista Alfe Omega che è la rivista dell'Ateneo Regina Postoloni e in questo articolo riprendo brevemente perché già l'abbiamo esposto in questo volume e in altre pubblicazioni del 2020 e 2021 perché nel 2020 la voce neuroetica del dizionario teologico internazionale della Deoniana che ho curato la voce neuroetica presento la la versione del modello quadripartito dei modelli di neuroetica e poi nella rivista L'altro che è la rivista della società italiana per la formazione in psichiatria diretta da Francesco Valeriani un grande psichiatra italiano è uscito un articolo proprio intitolato l'analisa al maponzio o la neuroetica al femminile due punti analisa al maponzio a cent'anni della nascita che è stata un po' la base del volume che poi è stato prodotto e uscito nel novembre del 22 insomma questi materiali poi ve li faccio avere nella piattaforma cioè nella piattaforma voi troverete l'articolo quello già pubblicato sulla rivista L'altro anche il link alla rivista Brain della Brain Research Fondazione Onlus dove c'è un'alteriore sintesi sulla visione di analisa al maponzio e adesso quello che esporrò sarà una ulteriore sintesi tra quello che ho già scritto e quello che ho scritto per questo nuovo articolo che uscirà prossimamente allora certamente analisa al maponzio è un personaggio molto interessante poco noto che ha vissuto 96 anni è nata nel 1921 e muore nel 2018 quindi ha una vita molto longeva come il marito Dietrich che muore a 95 anni quindi due persone che hanno vissuto diciamo anche al meglio penso la loro vita a lei dicevo si deve come vedremo la maternità del neologismo 1973 nel articolo Neuroethics of Walking in the Newborn chi è analisa al maponzio diciamo subito qualco anzi approfondiamola un po' brevemente la sua vita analisa al maponzio nasce il 19 maggio del 1921 in una cittadina che si chiama Chemnitz in Sassonia la Germania figlia di Karl Gottfried Müller e Clara Alma Müller Otto cresce a Desdra dove è iniziato a interessarsi all'architettura all'arte passioni che poi l'hanno accompagnata per tutta la sua lunga vita lo vedremo effettivamente dopo gli studi liceali ha studiato medicina a Iena e Francoforte soffrì insieme alla famiglia stiamo nel periodo nazista la condizione di rifugiata un periodo difficile della sua esistenza ma nonostante questo ha conseguito il titolo in medicina nel 1950 presso l'università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte quindi si laurea in medicina ma attenzione c'è un dettaglio interessante frequenta in questo periodo lezioni e seminari di filosofia e psicologia pubblicando persino questo però non c'è ancora sulla rivista Kant Studien bisognerà ritrovare questo studio in seguito lavorò presso gli ospedali universitari di Francoforte Monaco Hamburgo nei settori riguardanti la psichiatria e la neurologia nel 1953 quindi tre anni dopo la laurea presso l'istituto di analisi di Monaco completò la sua formazione con un psicoanalista dedicandosi alle visioni di Freud Adler e Jung fino ad allora non aveva mai ricevuto possiamo dire così uno stipendio formale per il suo lavoro e soprattutto solo nel 1955 lavorando nel dipartimento di psicosomatica dell'università di Hamburgo riceve il suo primo modesto stipendio nello stesso anno nel 55 si recò come specializzanda presso il dipartimento di psichiatria dell'università McGill di Montreal in Canada e poco dopo negli Stati Uniti dove anche il marito Dieter sposato il 5 luglio del 51 Francoforte fu concesso un visto preferenziale perché il marito era un grande fisico e qui adesso non mi soffermo sulla vita di suo marito quello che è interessante è che i due diciamo per tutta la loro vita hanno condiviso molte passioni soprattutto per le popolazioni indigene come vedremo tra poco per i viaggi in paesi esotici per la musica per l'arte il dottor Dieter e la dottoressa Pontius avevano spiriti molto affini condividevano la stessa filosofia di vita gli stessi libri gli stessi viaggi in luoghi insoliti oltre alla passione di Annalisa Alma Pontius per il nuoto il cucito e la fotografia entrambi erano affascinate le culture antiche dell'arte preistorica come ad esempio alle sculture di pietra dell'isola di Pasqua entrambi sono diventati poi cittadini statunitensi nel 1962 e sono grati a questo paese che ha incoraggiato e riconosciuto la loro creatività dopo 40 anni di permanenza nel nord nel nord america si sono ritrasferiti a Francoforte dove hanno continuato la loro vita e sono morti in età avanzata allora dal punto di vista accademico e dal punto di vista scientifico chi è Annalisa Almaponzius arriva e giunge nel 1957 negli Stati Uniti lavora nell'ambito della psichiatria pediatrica degli adolescenti e soprattutto degli adulti svolgendo anche attività privata a New York sia di neuropsichiatra dal 62 al 99 dal 1968 al 99 lavora come consulente medico esperto presso la Corte federale quindi molto interessante 1968 fino al 99 quindi per un bel periodo ha lavorato come consulente medico esperto presso la Corte federale degli Stati Uniti e in vari altri tribunali questo primo dato sarà rilevante per un'analisi contenutistica di un nuovo filone emerso delle pubblicazioni della Pontius in quest'ambito la sua carriera accademica è così sintetizzata ha fatto l'internato negli studi universitari a Francoforte 50-51 a Monaco 51-53 a D'Amburgo in Germania nel 53-54 medico residente alla McGill University in Canada nel 55-57 medico assistente presso il Massachusetts Training Faculty dal 57-59 e poi associato di professore associato di ricerca in psichiatria infantile a New York dal 62-64 dal 66-99 praticò come medico presso il suo studio privato fu un'europsichiatra per la Università di New York dal 69-76 e poi dal 70 praticamente dal 69-76 ha lavorato nel campo della neuropsichiatria forense e successivamente si trasferisce al Harvard Medical School al dipartimento di psichiatria dell'ospedale McLean famoso Paul McLean della tripartizione dei cervelli del cervello umano in tre parti e come professore clinico associato fino al 2001 quando all'età di 80 anni si ritira quindi diventa pensionata si diventa pensionata ma continua i suoi temi di ricerca pubblicando fino al 2013 e anche c'è una versione ripubblicata nel 2017 di un suo scritto poi l'età e alcune malattie le impedirono di continuare a scrivere morì il 2 gennaio del 2018 a Friburgo a 96 anni questa è la vita di Annalisa Alma Pontius quali sono i meriti di Annalisa Alma Pontius una sintesi è stata membra di diverse istituzioni accademiche l'Accademia di Medicina di New York l'Associazione Americana per le Scienze Avanzate una società tedesca sulle neuroscienze poi effettivamente presso l'American Academy of Psychiatry and Law è stata membro dell'Accademia di New York per le Scienze membro dell'American Psychiatry Association la famosa APA nel corso della sua vita la neuropsichiatra Pontius ha sviluppato importanti contributi volti alla concettualizzazione di importanti sindromi neuropsichiatriche ha studiato le capacità cognitive delle popolazioni indigene in quattro continenti tra gli indiani auca dell'Ecuador Amazzonico in Papua Nuova Guinea nell'Iran in Jaya tra le tribù etiopi del sud ovest e tra gli aborigini dell'Australia settentrionale essendo un ponte tra potremmo dire così menti disincarnate cioè menti disintegrate o menti malate inferme e nello sviluppo culturale sin dal 1983 descrisse nell'ambito clinico il concetto e l'impiego dell'icono diagnosi i risultati dei suoi test viso-spaziali quindi è importante che per questo divennero sempre più importanti per quanto riguarda la capacità universalmente riconosciuta all'estero umano delle rappresentazioni mentali analizzò antiche pitture rupestri con raffigurazione frontali di volti umani neolitici che in precedenza erano state trovate solo in aree remote dell'Australia settentrionale il suo concetto quindi concettualizzò quello di rappresentazione del volto neolitico con una continuazione interrotta questo volto è una continuazione interrotta tra la fronte e il naso e Annalisa al Mapontiut postula che esso sia una rappresentazione facciale primitivo schematica innata che può essere differenziata solo attraverso specifiche espressioni esterne la rappresentazione del volto neolitico domina quindi l'alte neolitica analfabeta in tutto il mondo e sorprendentemente tali rappresentazioni facciali di neonati sono preferite e disegnate anche da bambini in età prescolare quindi ancora privi di potremmo dire così un'influenza televisiva anche se oggi ormai non è più così vabbè da prealfabeti di tutto il mondo e da pazienti con danni cerebrali specifici associate a difficoltà di lettura ad esempio da alcolisti cronici un tempo alfabetizzati quindi il tema del volto neolitico lei si accorge che questi volti neolitici o di stampo neolitico sono addirittura copiati su entrambi i lati delle normali sagome dei volti mentre questi pazienti possono vedere e copiare solo la metà degli altri oggetti per quanto riguarda la rappresentazione di questo volto neolitico la Pontius ha sviluppato una teoria neuroscientifica che considera essenziale per questi processi l'elaborazione sottocorticale attraverso quella che lei chiamò una scorciatoia amigdalare visiva il che è coerente con un'ipotesi proposta da alcuni neuroscienziati fin dal 2003 nel 1971 la Pontius è stata la prima ad implicare il fulcro ad identificare e implicare il fulcro della disfunzione cognitiva prefrontale nel disturbo neuropsichiatrico detto definito allora disfunzione cerebrale minima oggi noto come ADHD il famoso disturbo da deficit di attenzione e iperattività l'ADHD molto noto oggi molto chiacchierato anche da un punto di vista dell'utilizzo anche di psicofarmaci su adolescenti la neuroscienzi di origine tedesca contribuì questo è molto interessante per il legame del nuovo filone contribuì alla scoperta di una nuova forma di epilessia parziale che ha un modello nei primati e implica un meccanismo neurofisiologico e pubblicò in particolare che lei chiamò LPTR cioè Limbic Psychiatric Trigger Reaction che studiò poi in vari casi in 24 casi fino ad oggi in questo caso un singolo stimolo scatenante che fa rivivere solo ricordi moderatamente stressanti porta improvvisamente a sintomi neurofisiologici specifici tra i quali una breve psicosi che lei denominò de novo con azioni involontarie e senza motivo queste azioni vengono eseguite senza pianificazione o coinvolgimento emotivo ma vengono ricordate finora sono stati studiati solo i comportamenti criminali tipo rapine in banca incendi o micidi bizzarri altrimenti inspiegabili tuttavia è probabile che tra le popolazioni in generale vi siano molti altri casi di limbic psychotic trigger reaction ancora inspiegabili con comportamenti solo sociali ma ugualmente improvvisi e diciamo minimamente bizzarri questa reazione implica una disconnessione una breve disconnessione tra le retti frontali quindi del lobo prefrontale le aree prefrontali della corteccia umana e le aree sottocorticali di stampo limbico determinano un comportamento guidato dal sistema limbico e una regressione atavica alla cosiddetta lei la chiama così paleocoscienza la ricerca futura su queste sindrome potrebbe basarsi sull'approccio sperimentale nel neonato con convulsioni e questo concetto è supportato dai risultati della stimolazione retrica diretta del cervello in pazienti preoperatori che hanno innescato crisi limbiche mesotemporobasali studiati dai vari autori e da crisi comportamentali non convulsive e neonati di primati con convulsioni questo modello diciamo che lei sviluppò nel primate potrebbe anche contribuire a una grande comprensione di quelle che sono le basi neurofisiologiche nell'essere umano del libero arbitrio dalla prospettiva anche neuroscientifica effettivamente qui si tesse un ponte tra una mente disintegrata quindi che mi manca diciamo un'integrazione del dialogo tra le varie aree quindi l'ambito diciamo neuroscientifico l'ambito della mente quindi psichiatria e poi l'azione dell'essere umano come un'unità psicosomatica e sociale la filosofia dell'azione analisa Alma Pontius dal 1973 con questo articolo pubblicato sulla rivista Perception e Motor Skills vedete un articolo molto tecnico molto tecnico e anche molto tecnica la scelta di questa rivista lei pubblicherà moltissimo su questa rivista parla di neuroetica dal titolo Neuroethics of Walking in Erdogan cioè la neuroetica del camminamento nel neonato quindi presso a poco nello stesso periodo di Potter quando Potter rendeva famosa la bioetica Annalisa Alma Pontius scriveva questo articolo discuteva un nuovo e trascurato settore di preoccupazione etica la neuroetica in antitesi alla prassi comportamentista di stimolazione motoria dei neonati in voga in quegli anni negli Stati Uniti quindi il punto di partenza della Pontius è estremamente pratico concreto cioè lei prende in considerazione un problema che lei vede nella società lo vede come problematico e lo analizza la realtà di una vera e propria sperimentazione massiva nei neonati americani proposta da una corrente chiamata comportamentismo il ragionamento seguito dalla Pontius diventa e risulta emblematico al fine di caratterizzare questo emergente settore di riflessione nel suo modello medico-clinico di stampo biologico-sistemico e relazionale in primo luogo la neuropsichiatra di origine tedesca parte dai fatti una sorta di sperimentazione motoria che voleva essere una sorta di pseudo potenziamento cioè una sorta di enensme motorio che si voleva dare a questi neonati che si voleva ottenere nei neonati dalle 0 alle 8 settimane di vita quindi nei propri neonati iperstimolandoli allo scopo iperstimolandoli allo scopo di accelerare la normale tendenza a muoversi in posizione eretta tale prassi venne sottoposto al vaglio delle evidenze in quel momento note relative allo sviluppo strutture e funzioni del sistema nervoso quindi alle neuroscienze emersero numerosi punti di criticità dato che si stava sollecitando un sistema nervoso non ancora maturo e perciò non ancora atto a supertare determinate funzioni come quella motoria questo specifico tentativo di potenziamento motorio risultava pertanto non etico e violava il cosiddetto principio neuroetico che può essere descritto in questi termini non prendendo in considerazione le conseguenze neuroscientifiche riguardanti lo sviluppo del sistema nervoso ed agendo di fatto contro tali evidenze si lede di fatto l'integrità e la dignità del soggetto vulnerabile in questo caso il neonato a cui vengono imposte tale pratiche allora in secondo luogo criticando quella corrente psicologica del comportamentismo il behaviorism da cui originava tale prassi il ragionamento della Pontius enfatizzava l'aspetto delle interpretazioni delle neuroscienze cioè vi sono comprensioni sulla natura del cervello che risultano dannose per la stessa salute per il benessere l'integrità psichica dell'essere umano proprio per il fatto di non corrispondere alla realtà sono proprio le spiegazioni relative alla natura struttura e funzione del sistema nervoso e del cervello in particolare che ricalcano spesso nella nostra epoca tecnologica in cui lo scienziato vive e nell'ambiente dove si forma questo lo espliciterà meglio l'analisa al maponzio nel 93 quando otteserà una sintesi vent'anni dopo di tutti questi ambiti di pseudopotenziamento infatti il filosofo padovano Giacomo Mario Gava analizzando le concezioni della storia contemporanea e i suoi rapporti con l'arte e la creatività tecnologica ha messo in luce il ruolo e i limiti dei modelli avanzati nel tempo per la precomprensione della natura e struttura dello stesso cervello umano orologi automi semoventi calcolatori sono alcune invenzioni e produzioni umane che hanno determinato veri e propri modelli del cervello modello meccanicistico funzionalistico connessionistico ecc dagli anni settanti in poi analisa Alma Pontius ha approfondito in questo nucleo del principio neuroetico promuovendo l'importanza di approcci sistematici sperimentali sociali informati e guidati dalle conoscenze dello sviluppo strutture e funzioni del sistema nervoso per la neuropsichiatria americana la neuroetica è quella riflessione che mira valutare i benefici e o le potenziali conseguenze negative a breve e a lungo termine di concrete sperimentazioni o approcci all'essere umano attraverso il confronto informato con le diverse neuroscienze questo modello lei lo sintetizza in questo articolo del 93 dove affronta altri tre contesti in più oltre a quello qui sono quattro i grandi settori quel settore quel settore che è stato definito del potenziamento pseudo potenziamento di carattere motorio poi il settore che è definito dal pseudo potenziamento di ambito cognitivo e che quindi implica anche tutto il tema dell'insegnamento di tecniche di lettura scrittura apprendimento non consone alla maturità neuromoturità del sistema nervoso effettivamente in un suo articolo analisa al mapontius parla proprio degli effetti delle teri della cosiddetta nuova matematica e poi un terzo ambito di interesse di analisa al mapontius sarà proprio un passaggio di antropologia culturale legame tra psichiatria neuroscienze e antropologia culturale dove la neuroeticista si occupa dell'indagine valutazione del funzionamento neurocognitivo in alcune popolazioni di cacciatori raccoglitori ai fini della sopravvivenza operando un confronto con diciamo le popolazioni contemporanee e facendo vedere quanto lo stigma verso certe popolazioni poteva risultare in una situazione epigenetica quindi sociale ambientale sfavorevole che si reperqueteva a livello neurale e quindi dava dei fenomeni neuropsichici in queste popolazioni proprio per lo stigma che veniva proiettato verso di loro quindi ecco l'apertura a quella mente che è al contempo incorporata situata ma è relazionale e gli effetti epigenetici che possono andare a modificare negativamente e a dare dei problemi neuropsichiatrici su sull'essere umano l'altro quarto ambito il sottotitolo di questo articolo l'ultima parte del titolo lo dice i diversi modelli di intelligenza artificiale del cervello effettivamente in riferimento a questo quarto punto la Pontius si collega agli studi del filosofo statunitense John Rogers Searle John Searle il grande filosofo della mente il quale negli anni 90 aveva scritto contro la nuova ortodossia secondo la quale il cervello sarebbe una sorta di computer digitale o macchina connessionistica e la mente come informazione software che viaggia all'interno del sistema supportato l'hardware avvalendosi dei dati neuroscientifici sul sistema nervoso e all'organo cerebrale la neuropsichiatra di Harvard stigmatizzava questa visione computazionale irrispettosa diceva delle funzioni superiori del soggetto quali la coscienza e l'intenzionalità anni prima di John Searle Evandro Gazzi aveva messo in evidenza effettivamente il tema dell'intenzionalità e del ruolo imprescindibile nell'essere umano di questa dimensione che non può essere ridotta almeno cervello il filosofo Searle qui lei considera l'analisa Alma Pontius considera la coscienza e l'intenzionalità funzioni superiori dei processi neurobiologici del cervello umano i fenomeni mentali in rapporto ai fenomeni fisici sarebbero a un livello logico ma non ontologico superiore secondo la visione del filosofo americano Searle gli stati intenzionali mentali sarebbero realizzati dalle strutture fisiche gli stati di coscienza sarebbero il livello più alto di manifestazione del sistema mente-corpo e avrebbero origine dall'attività neurale del cervello dalla neurofisiologia manca il livello intenzionale motivo per il quale il solo studio e il funzionamento dei neuroni e delle reti neurali non può dare una visione completa della realtà umana ecco allora che il neologismo neuroetica entra in quest'ambito abbiamo questa connessione con vi ricordate questo articolo è pubblicato nel 93 se noi ci lo vi avevo detto prima anni 90 siamo nel paradigma filosofico effettivamente il legame regge con questo apponte con il filosofo Cern infatti effettivamente c'era tutto il filone sviluppato da Patricia Smith Churchland che è antitetico rispetto a Searle infatti John Searle e Patricia Churchland hanno avuto diversi dibattiti culturali e anche scientifici dal punto di vista filosofico proprio perché hanno visioni completamente diverse dal computazionismo eccetera e effettivamente la Pontius dice alla fine di questa spiegazione cito l'analisa al Mapontius alla fine di questo articolo del 1993 su un'altra rivista specializzata Psychological Reports lei dice al contrario il computer non ha coscienza né intenzionalità piuttosto il computer è relativo all'osservatore considerare il cervello come un computer analogo alla differenza essenziale tra volontario intenzionale eccetera e agli atti motori in contrasto con l'attività riflessa involontaria e automatica come il suddetto riflesso del passo del neonato vedete allora in questo brano e adesso lo capisco meglio anch'io mentre ve lo dico c'è già il collegamento tra i suori precedenti del riflesso del pasto quindi il pseudo potenzialamento motorio ma l'apertura a tutto questo nuovo settore che adesso brevemente vi descrivo della filosofia dell'azione che poi toccherà toccherà il tema del neurodiritto voglio raccontarvelo perché e forse diciamo con questo anche poi forse concluderemo perché non avremo molto più tempo e Cranford lo lasciamo se riesco lo inizio e se no lo vediamo direttamente a febbraio perché considero importante questa diciamo ultima visione o ultimo scavo sul pensiero di Annalisa Alma Pontius che spero non sia l'ultimo ovviamente perché pensiero è così ricco vi dico semplicemente nel volume del novembre del 2002 era stata redatta la bibliografia che pensevamo completa alla fine la pagina 109 e lì avevamo messo le 58 fonti di Annalisa Alma Pontius indicizzate sia su PubMed che rivenute da altre fonti nell'arco di 60 anni dal 2013 al primo scritto del 1953 non a caso 53 doppia elica del DNA Watson e Crick però l'estate scorsa diciamo ho scoperto un articolo che non conoscevo della Pontius facendo una ricerca su internet eccetera e quest'articolo vedendo la bibliografia e vedendo che la Pontius citava altri testi di se stessa sullo stesso genere ho cominciato a tirare i nodi come quando uno butta una rete e poi comincia a vedere che abboccano i pesci e uno comincia a tirare su e insomma praticamente è emersa un corpus di 40 scritti che adesso vengono integrati a questi 58 quindi abbiamo praticamente una letteratura di 98 pubblicazioni della Pontius nei circa 60 anni di lavoro come mai non erano non li avevamo trovati perché per esempio la rivista Aggression and Violent Behavior interessante no? questa rivista ad esempio non era precedentemente indicizzata negli anni cui ha pubblicato l'analisa su PubMed per esempio su questa rivista Aggression and Violent Behavior se uno mette nella motore di ricerca Pontius Analyze si riscontrano 27 risultati 25 dei quali sono articoli scritti dalla neuropsichiatra di origine tedesca molti dei quali sono inediti rispetto all'analisi bibliografica del 2022 e diciamo in questo articolo che verrà pubblicato su Alf Omega riporto tutta la bibliografia completa adesso evidenziando in nero in negretto sottolineando quali sono i nuovi articoli di questa lunga produzione che oggi vede 98 scritti non si esclude che ce ne siano ancora altri perché per esempio quello che dicevamo nel racconto biografico che lei ha pubblicato su questa rivista Kantian Student per esempio non c'è bisognerebbe riperirlo non so come però vedremo se lo riperiamo anche questo che è più di ambito filosofico cosa diciamo su questo nuovo filone di ricerca possiamo dire così dall'analisi svolta dell'intera bibliografia ora disponibile emerge un interessante legame tra molti di questi articoli inediti altri articoli che lei comunque aveva pubblicato avevamo già indicizzato però si diciamo si enfatizza molto la riflessione che dallo studio dell'esperienza allucinatoria in pazienti schizofrenici di cui lei si interessa sin dagli anni 60 1962 passando per la ricerca dei correlati neurologici in alcune patologie delinquenziali nell'adolescente 1972 inizia a interessarsi di questo e agli studi pieneristici sulle disfunzioni strutturali e funzionali di comunicazione cioè integrata tra il sistema del lobo frontale e le strutture sottocorticali in soggetti con ridotta o annullata capacità deliberativa e qui si possono vedere le pubblicazioni dal 72 in poi giungono alla caratterizzazione di una vera e propria sindrome neuropsichiatrica denominata dalla stessa Pontius limbic psychotic trigger reaction questo è un punto nodale l'interesse per le basi neurofisiologiche di questa tipologia di psicosi sorge dall'interesse forense della Pontius tanti anni varie decadi come consulente di tribunali la neuropsichiatra di origine tedesca aveva compreso che un'alterazione a livello cerebrale poteva compromettere parzialmente o totalmente le abilità volitive della persona umana inficciando il grado di autocoscienza in primis e perciò di comprensione consapevole della realtà interiore di sé ed esteriore del soggetto in funzione all'agire responsabile questo settore di riflessione sull'agire del liberato umano è parte di una speculazione che analizza Alma Pontius tesse tra neuropsichiatria filosofia dell'azione e diritto nello scritto nello scritto del 1996 intitolato Forensic Significance of the Limbic Trigger Reaction la Pontius parte dal contesto del decennio dedicato al cervello siamo 1996 quindi anni novanta decade del cervello per affrontare il principio che per spiegare azioni umane apparentemente senza senso come certi omicidi efferati certi adesso non è che tutti no? perché adesso è necessario integrare la comprensione della verità oggettiva sullo stato della persona umana coinvolta attraverso esperti neuroscienziati competenti in materia che possano far emergere eventuali con cause esplicative di ordine neurofisiologico l'analisi di numerosi casi di eventi omicidi in carattere improvviso senza movente sono queste le caratteristiche che lei si interessa non pianificati ha fatto emergere che questi soggetti erano realmente pazienti con un'effettiva una effettiva affettività ridotta ai minimi termini o completamente annullata quindi tratti già che vanno verso lo psicotico diciamo il paziente con tratto psicopata ma con una coscienza conservata però perciò altamente razionali soggetti altamente razionali anzi focalizzati altamente su se stessi per esempio sulla propria salute sul proprio stato sulla propria modo di presentarsi eccetera quindi erano molto consapevoli di se stessi e focalizzati attentivamente sul proprio stato interiore e con una memoria degli eventi conservata questi sono i tratti che lei stabilisce nel caso di un paziente che lei denomina con l'acronimo XR nel 1977 come pur gli altri casi di maschi affetti da schizofrenia i pazienti non presentavano di scuturbi convulsivi noti ma avevano delle alterazioni neurofisiologiche evidenti e qui sarà anche la distinzione che lei porterà effettivamente tra le tipologie di psicosi la casistica che lei affronta in questa linea da analizzare in futuro perché non ancora diciamo è solo scoperta adesso bisognerà approfondire ci parla degli effetti genetici epigenetici che possono arrivare a diminuire sino ad annullare la capacità di autoconsapevolezza umana e pertanto diminuire e annullare la volontà deliberata la sindrome è descritta sin dal 1977 i dati sulla neuromaturazione della corteccia orbito frontale delle relazioni con le aree sottocorticali come la migdala ipocampi eccetera che regano gli impulsi istituali le emozioni la memoria tutto ciò ha contribuito e tuttora lo sta facendo ad integrare questi dati neuroscientifici e neuropsichiatrici nell'ambito forense per una migliore comprensione della persona umana imputata e per una più oggettiva comprensione della natura sana e patologica legame poi con l'interesse verso l'adolescente quindi la neuromatulazione adolescenziale e soprattutto i vari scritti sull'adolescenza e delinque ha portato appunto la Pontius a specificare ulteriormente questa sorta di involuzione dell'architettura e della dinamica cerebrale che ha un effetto a livello comportamentale per la psichiata di Harvard se alla realtà oggettiva del neurosviluppo infantile e adolescenziale per cui il sistema frontale di questi soggetti non è ancora maturo e competente per svolgere quella coordinazione con il tutto integrato del resto del cervello insieme al resto del sistema nervoso in dialogo sistemico con gli altri organi tutta la corporità e quindi anche con l'ambiente la configurazione neurale sarà alterata potrà essere alterata e pertanto anche il comportamento del soggetto derivante potrà andare oltre gli standard che noi consideriamo di normalità il caso descritto nel 96 era un paziente che aveva commesso un omicidio esperato improvviso e senza apparente motivo infierendo su una sua vittima che non aveva nessuna relazione e rapporto con lei ma semplicemente purtroppo si trovava in quel momento a mangiare di fronte a lui non appena questa persona ha cominciato a mordere il panino e a muovere la mandibola questo movimento della bocca e l'atto di mangiare ha fatto scattare una reazione psicotica un'iperattivazione autonomica transitoria combinata con la psicosi si sono manifestata in modo improvviso il repetino ritorno alla memoria di stress corpori ciclici ma moderati aveva creato nel paziente allucinazioni viscerali in cui il suo corpo veniva fatto a pezzi con la convinzione delirante di venire cioè di stare per essere cannibalizzato da quella persona quindi sorta di meccanismo di protezione ovviamente indotto da una ovviamente effetto delirante psicotico la sintomatologia improvvisa e transitoria del paziente è stata caratterizzata dalla Fonsius in 13 sintomi o segni proposti come un nuovo sottotipo di crisi parziale chiamato reazione psicotica limbica lei ne studia diversi dal 96 in poi 18 altri casi di uomini bianchi dei quali 14 imputati di omicidio 3 piromadi un rapiratore di banche e ovviamente diciamo lei comincia nel 96 questi studi che vengono portratti anche negli anni effettivamente il punto del nucleo fondamentale dal punto di vista teoretico per la filosofia dell'azione per agire in modo deliberato cioè per scegliere cosa fare e come farlo l'essere umano deve essere consapevole di sé del proprio stato interno e dell'ambiente relazionale esterno e in questo contesto egli viene mosso a compiere un'azione perché comprende la proporzione tra il suo desiderio l'atto scelto e la natura dei mezzi per arrivare a questo fine deliberato ovviamente se in tutti questi processi che la filosofia dell'azione analizza c'è una compromissione perché appunto allucinatoria eccetera ovviamente questo andrà a inficciare poi su l'esito nell'articolo del 2004 intitolato Violence in Schizophrenia vs Limbic Psychotic Triggered Reaction Prefrontal Aspect of Volitional Action la Pontius ricapitola la ricerca e riflessione di una trentina d'anni in materia sul ruolo delle alterazioni cerebrali di carattere psichiatrico coinvolte in modifiche della dimensione antropologico-volitiva umana il tema centrale coinvolge i pazienti psicotici che in preda alla sintomatologia compiono alcuni atti violenti che possono poi dare azioni di stampo delituoso la neuropsichiatra di Harvard si esprime così ho tradotto un pezzo di questo articolo nelle psicosi si contrappongono due tipi fondamentali di violenza dice la Pontius nella schizofrenia la violenza è determinata principalmente da una distorsione persistente del contenuto del pensiero attraverso deliri e o allucinazioni mentre la mediazione prefrontale dell'abolizione intenzionale del comportamento d'azione in gran parte intatta questa è la distinzione fondamentale con al contrario tutte le funzioni prefrontali sono brevemente ma grandemente compromesse nello squilibrio frontolimbico proposto in un sottotipo di crisi limbiche parziali che a lei ha denominato reazioni limbiche d'innesco psicotico questa reazione si basa sul modello animale d'innesco delle crisi limbiche attraverso stimoli lievi intermittenti nei primati evocando crisi comportamentali non convulsive quindi non c'è la crisi convulsivante tipo epilettica con indicazioni di allucinazioni visive ulteriori eventi prefrontali che contribuiscono alla violenza sia nella schizofrenia che più gravemente nella reazione limbica descritta dalla Pontius riguardano dice lei l'incapacità di reimpostare in modo appropriato un piano di azioni in corso a seguito di circostanze intervenute e o una ridotta capacità di apprezzamento cognitivo delle conseguenze delle implicazioni degli atti questo fine della citazione di un articolo del 2004 pubblicato in Aggression and Violent Behavior anche questo non indicizzato all'epoca nello sviluppo di questo nuovo filone di ricerca della Pontius a cavallo tra neuroscienza e psichiatria filosofia dell'azione e neurodiritto la neuroscienziata di origine tedesca parte da questa realtà incorporata lo dice così si esprime anche così l'azione intenzionale costituisce il fondamento stesso delle reazioni umane e le relazioni umane con effetti sul mondo esterno è talmente fondamentale che tutte le società umane hanno stabilito norme e regole di base dice la Pontius su come tale azione deve procedere ogni volta che si verificano deviazioni di tali norme in particolare sotto forma di atti violenti vengono sollevati profondi interrogativi sul fatto che gli autori abbiano agito intenzionalmente con volizione o libero arbitrio o sul tempo in cui devono essere ritenuti responsabili dei loro atti sempre la Pontius che parla che scrive l'esperienza di poter agire come un soggetto agente libero è essenziale per il senso di sé e per la coscienza i cui sottili gradi sono stati leporati altrove e lei cita un articolo suo del 2003 che bisognerà analizzare non sorprende quindi che il comportamento d'azione dice lei al suo più alto livello di integrazione neurale sia mediato da sottofunzioni della corteccia prefrontale che nell'uomo raggiunge il suo sviluppo più complesso qui sta a facendo un'analogia con i primati il sistema prefrontale funzionale di una relazione reciproca con il sistema limbico evolutivamente più antico condiviso da tutti i primati e media le funzioni fondamentali per la sovvivenza compresa l'aggressività potremmo dire così da fine citazione gli studi della neuropsichiatra di Harvard risultano pioneristici rispetto a quel settore appunto che conosciamo oggi con neurodiritto attraverso l'analisi del modo supirante degli atti volitivi la Pontius distingue le profonde differenze qualitative tra queste due fondamentali tipi di psicosi da una parte quelle che si verificano durante le crisi epilettiche dall'altra le cosiddette psicosi funzionali come nella schizofrenia dal punto di vista delle manifestazioni psicopatologiche a questa distinzione corrispondono fenomeni ben distinti se la violenza dal punto di vista della violenza e dell'aggressività se la violenza si verifica nella schizofrenia le capacità di intenzione e pianificazione volitiva rimangono tipicamente intatte durante tali atti giudicati dal contesto anormale del pensiero sotto l'impatto di deliri e o allucinazioni mentre al contrario qualsiasi tipo di crisi epilettica non convulsiva comprese quelle parziali come nella proposta della reazione psicotica limbica dalla Pontius hanno un'altra caratteristica sono associate a una grave compromissione dell'intenzione volitiva e della pianificazione degli atti il processo di differenziazione tra schizofrenia e reazione limbica messo in atto dalla Pontius risulta fondamentale per quell'informazione neurologicamente coerente espressa sin dal 1973 con la nascita del neologismo neuroetica la dimensione pratica a livello forense di tale distinzione risulta tanto a vantaggio di possibili potenziali vittime da proteggere quindi ci potrebbe un effetto predittivo o preventivo come per la tutela stessa del paziente valutato anche da un punto di vista neurologicamente informato questo aiuterà alla miglior comprensione dello stato di integrità della mesrea rispetto al comportamento violento eventualmente doloso ecco qui che diciamo il modello medico-clinico di stampo biologico sistemico e relazionale della Pontius emerge appieno anche la cornice teorico-pratica di questo nuovo filone in una tematica che pone anche la gerarchia di priorità tra vita e libertà cioè da quello che in inglese è liberty and life la priorità della condizione vitale umana la cui dimensione mentale radica cioè si trova incorporata in corpo e rata non è la teca cranica soltanto ma è l'intero corpo vivo e si estende anche quale dimensione relazionale della persona umana fuori dai confini della pelle la priorità del vivere è l'orizzonte di possibilità e di potenzialità dell'agire e in particolare dell'azione volontaria deliberata cioè scelta e pertanto libera dell'essere umano la Pontius sintetizzò uno spettro che va dall'azione volontaria dell'omicidio potremmo dire all'omicidio no scusate uno spettro che va dall'azione volontaria all'omicidio tra virgolette automatizzato lei lo chiama così compiendo un'accurata stratificazione dei livelli del sé personale della coscienza in soggetti affetti da crisi epilettiche questo lo svilupperà nell'articolo del 2003 intitolato from volitional action to automatized homicide changing levels of self and consciousness during partial limbic seizures sempre su aggression and violent behavior la rivista che non era indicizzata quindi anche questo non lo trovavamo prima quindi vedete adesso diciamo potremmo dire così che con questo nuovo corpus e tanti altri articoli che non sono stati scavati e studiati di questa grande neuropsichiatra avremo materia per i nostri pane per i nostri denti sia per continuare una riflessione a 360 gradi sul paradigma diciamo e quindi che confermi diciamo la visione del paradigma medico-clinico sistemico relazionale biologico-sistemico relazionale della Pontius contrario a visioni funzionalistiche di altri stampi sia per aprire gli orizzonti a nuovi campi di studio che correllino e la vedono come pioniere in tanti settori che oggigiorno diamo a volte per scontati o che continuano a dare un beneficio per la riflessione e la prassi e la comprensione della realtà dell'essere umano ovviamente come prevedevo ma nelle slide sono già pronte per la prossima volta e io chiuderei per oggi il modello di Analyze Alma-Ponzio nel settore medico-clinico e per febbraio noi vedremo 1989 Ronald Eugene Crawford ok e perché perché avevo previsto avevo previsto adesso delle un'informazione e poi anche aprirò se ci sono delle domande volevo andare alla fine della presentazione scusate eccoci tanto qua per per darvi delle notizie eccoci qua innanzitutto qua il nostro prossimo appuntamento no questo lo dico alla fine scusate allora innanzitutto per i nostri studenti per i nostri studenti noi stiamo utilizzando la piattaforma Canvas che è una piattaforma didattica interessante e dove didattica interattiva anche può essere molto molto dove noi stiamo caricando adesso ancora ci sono i primi cinque video poi ci sono due video in spagnolo caricheremo anche gli altri video in spagnolo e materiali dalla prossima settimana troverete diversi materiali oltre alle slide che già sono caricate per i primi eventi in italiano e in spagnolo e poi troverete anche articoli vi metteremo degli articoli su questo paradigma che abbiamo visto e altre informazioni sull'introduzione sugli altri contesti se avete problemi o non sapete come accedere allora la pagina è quella lì http apra.instructive.com login canvas cos'è il login canvas cioè voi una volta che siete iscritti dovreste aver ricevuto dalla segreteria la vostra matricola matricola vuol dire un numero che è 0000 non so cosa e dei numeri e poi associato a questo una password che poi voi modificherete a vostro piacimento con questi dati quindi il vostro numero di matricola e la password che avete scelto o modificato entrate alla piattaforma canvas e dovreste trovare già il corso elementi di neurobietica e il materiale se avete problemi dovete scrivere a servizi online chiocciola upra.org ok e loro vi aiuteranno per la parte dell'accesso alla piattaforma il nostro prossimo seminario dove continueremo allora parleremo di Ronald Eugene Cranford e in quell'epoca faremo spero di riuscire a fare sia Ronald Eugene Cranford sicuramente poi il modello bioetico filosofico bioetico e sociale vediamo se li riusciamo a fare tutti magari sinteticamente e se no poi li riprendiamo in un altro momento tanto abbiamo disponibilità di di date il nostro prossimo evento è venerdì 23 febbraio ma la prossima settimana abbiamo un webinar qui siete tutti invitati chi vuole iniziamo una serie di webinar sull'intelligenza artificiale noi abbiamo già trattato due anni corso di perfezionamento in neurobietica 2018 19 19 19 20 penso o 20 21 abbiamo trattato due anni l'intelligenza artificiale dal punto di vista interdisciplinare daremo il via a questo seminario perché dove abbiamo voluto per martedì prossimo dalle 17 alle 18 fare un dialogo filosofo sono il sottoscritto con un ingegnere informatico dottor rosario moscato che coordina proprio da adesso un nuovo sottogruppo sulla neurobietica e l'intelligenza artificiale commentando il discorso molto intenso diviso in otto punti che Papa Francesco ha scritto per la giornata mondiale della pace gennaio 2024 non abbiamo fatto tempo a leggere a studiare questo testo che Papa ieri l'altro ieri ha scritto un altro testo per la giornata mondiale delle comunicazioni che si terrà a maggio proprio anche il 50esimo giornata mondiale delle comunicazioni proprio parlando di intelligenza artificiale e quindi ne abbiamo parlato anche qui sì sì ma ne ha scritto un altro adesso quindi sì 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 il tema l'abbiamo già sì sì l'abbiamo già affrontato questa è la locandina potete iscrivervi bisogna iscriversi gratuitamente non c'è niente basta inquadrare il Q-code qui tutto tecnologico il Q-code e si accede direttamente alla locandina ho mandato nella newsletter le indicazioni pratiche per questo bene allora innanzi facciamo così io vi saluto solo per la diretta streaming quindi vedete